Benvenuti a questo nuovo video con il quale riprendo un argomento che ho già trattato più volte in passato e cioè il come registrare quanto succede sullo schermo del vostro pc mediante uno dei software di screencast che esistono per linux che può essere kasam, edete, record my desktop eccetera eccetera. Ecco, perché riprendo questo discorso se ne ho già parlato? Semplice, perché allo stato attuale tutti questi software o almeno quelli che io conosco in un modo o nell'altro danno problemi, non funzionano, quindi non posso usarli. Come sto registrando in questo momento? Con l'ancora di salvataggio che noi utenti linux abbiamo sempre, cioè con il terminale o meglio con un comando terminale che vedete qui che sta agendo in questo momento e sto registrando grazie a questo comando da terminale. Ecco, quindi ho voluto registrare ancora una volta un video con tema screencast quindi registrazione del video del vostro pc presentandovi appunto un paio di varianti di questo comando che qualora anche voi come me vi trovaste in difficoltà non avendo di fatto un software disponibile e soprattutto che funziona correttamente avete sempre la possibilità di, non voglio dire ripiegare perché in realtà non è un ripiego come potete vedere da questo video, in realtà i risultati sono buoni né più né meno che con un qualsiasi software con un'interfaccia grafica e comunque è un'ancora di salvezza più che un ripiego qualora appunto i software classici o conosciuti non funzionino o abbiano problemi almeno temporaneamente. Allora, il comando in sé è avconv, quindi è lui il programma avconv che vi permette di registrare quanto succede a video e io vi presento e vi lascerò ovviamente nella descrizione del video le due varianti vi presento un comando ideale di avconv per registrare con formato mp4 quindi diciamo un formato proprietario e anche la variante comando ideale di avconv per registrare in webm quindi un formato aperto che io prediligo anche perché è più compatto cioè occupa meno megabyte una registrazione a parità di tempo di registrazione occupa meno posto webm anche se fra i due devo dire che la registrazione del movimento del cursore è più fluida se registrate con mp4 è un po' meno fluida se registrate con webm però in questo momento come potete vedere qui sto registrando in formato webm e mi sembra tutt'altro che disprezzabile il risultato quindi restiamo su un formato open usiamo webm se ci piace usare se no c'è comunque la variante mp4 allora come si può usare questo comando che non è installato per difetto su ubuntu quindi prima dobbiamo installare un pacchetto per poi avere a disposizione questo comando allora si va nell'ubuntu software center si cerca questo pacchetto lib av righetta tools vedete che qui ho già impostato l'ubuntu software center con questa ricerca e vi uscirà appunto questo pacchetto che io ovviamente ho già installato lo sto usando quindi lo installate una volta installato siete pronti per registrare e naturalmente ci sono tanti parametri per questo comando ma diciamo che il lavoro di shernet e di prova l'ho già fatto io per voi e appunto vi presento e vi metto a disposizione queste due varianti niente di che quindi dalla descrizione del video voi potete tranquillamente fare un copia e incolla per esempio di questo comando o di questo copia copiate il comando aprite un terminale come l'ho aperto io qui lo vedete qui sulla sinistra fate incolla nel vostro terminale quindi tasto destro incolla vi ritrovate il comando ritoccate quello che volete ritoccare fra un attimo vi dico cosa potete ritoccare cosa non toccare e poi fate enter e la registrazione parte quando il comando è attivo vedete questi messaggini tecnici un po' in giallino marroncino e il comando è attivo per terminare la registrazione basta che sempre con il terminale attivo premete la combinazione di tasti ctrl più c quindi ctrl c termina la registrazione ovviamente adesso non lo faccio perché sto registrando ovvio però è tutto lì quindi incollate ripeto incollate semplicemente uno di questi due comandi nel vostro terminale se volete ritoccare qualche parametro lo ritoccate fate enter la cosa parte registrate parlate fate quello che dovete fare il vostro video tutorial e poi alla fine ctrl c per terminare tutto lì molto molto semplice ecco un paio di note dicevo sulla composizione del comando e su cosa eventualmente potete o vi conviene ritoccare ecco sicuramente la maggior parte del comando la lasciate così com'è perché è impostato in un modo ideale per funzionare bene sul vostro pc quello che potete toccare eventualmente è questo metadata title il titolo perché c'è la possibilità di inserire nelle proprietà del vostro video un titolo ecco quindi io ho messo per esempio quando nessun software di screencast funziona sto registrando proprio questo video con questo titolo non è obbligatorio potete togliere volendo potete anche togliere tutta questa parte questa qua fino a qua perché è opzionale naturalmente il video verrà registrato ugualmente anche senza titolo però è così come dire uno sfizio un'eleganza in più quando fate tasto destro nel vostro file manager fate il tasto destro su un video che avete creato voi proprietà andate nella scheda audio video vedrete che il titolo è stato impostato mi sembra carino quindi l'ho lasciato come opzione di questo potete senz'altro toccare a vostra scelta o anche eliminare il resto qui tutti questi parametri tecnici lasciateli pure come sono che sono vanno benissimo così l'unica altra cosa che può variare per voi è la grandezza del video quindi quanti punti in larghezza e quanti punti in altezza dovete registrare ecco nel mio caso vedete che questo è il parametro per lo screen size meno s ecco screen size ho messo una sigla vxga vxga nel mio caso per il mio video è un parametro predefinito che sta per questa grandezza lo vedete qui in basso a destra quindi meno s vxga nel mio caso corrisponde a meno qui ho messo uno spazio di top a meno s di punti 1366 per 768 questa è la grandezza dello schermo del mio portatile che sto usando in questo momento se voi avete un video più piccolo o più grande naturalmente dovete variare questo parametro o mettete la dimensione effettiva in punti come in questo caso qua oppure vi trovate nel manuale del comando la sigla corrispondente delle dimensioni di uno schermo predefinito non è detto che ci sia la vostra dimensione quindi avete sempre la possibilità di mettere i punti effettivi pixel effettivi larghezza per altezza se no può essere tra virgolette elegante mettere un parametro predefinito come nel mio caso che ho trovato la mia grandezza lo posso usare VXGA come lo vedete questo nel manuale ho detto ecco il modo più immediato per vedere il manuale di questo comando da terminale è aprire un terminale e fare e usare questo comando quindi MAN che sta per manuale e AVCONV quindi fate questo comando lo scrivete fate ENTER e vi si apre tutta una spiegazione proprio il manuale del comando quindi con tutti i parametri eccetera eccetera qui è abbastanza lungo però a un certo punto incontreremo anche il parametro meno S vediamo un po' sto scorrendo in giù le paginate di manuale perché è un comando molto esteso ecco molte opzioni avete visto ecco qua meno S lo vedete qua e il meno S ha voi potete dire larghezza per altezza come vi ho detto oppure usare uno di questi sigle predefinite che sta per determinate larghezze per altezza ecco nel mio caso vediamo un po' se lo trovo ecco WXGA sta per 1366 768 è proprio il mio schermo in altri casi se avete un bello schermo grande tipo 1920 per 1200 usate per esempio WUXGA 1600 per 1024 eccetera ce ne sono diverse fino addirittura 7680 punti per 4800 immagino che siano quei bei schermoni grandi come un televisore comunque avete capito il senso quindi se volete usate una di queste sigle se non vi volete preoccupare di andare a cercare con il manuale una di queste sigle potete mettere i punti come qua come in questo caso vedete qua ecco per uscire dal comando manuale di visualizzazione di manuali lo vedete scritto qui in basso Q to quit cioè Q per uscire quindi premete semplicemente la lettera Q della tastiera e ritornate dove eravate prima ecco io ho concluso questo breve video perché l'importante non è tanto chissà quale spiegazione ma avere a disposizione i comandi da usare quindi li avete visti forse ancora una cosa che non vi ho detto prima di dimenticarmi a parte il titolo naturalmente l'altra cosa che potete modificare è l'ultima cosa quindi il percorso di dove andrà a salvare il video quando viene registrato cioè in questo momento io dove sto salvando nella mia home quindi il serpentello sotto cartella scaricati e nome del file .webm perché appunto ho scelto di usare il comando webm e non l'mp4 quindi qui potete dare ovviamente il nome al vostro video come volete e potete anche salvarlo dove volete non necessariamente qui io vi lascio in descrizione questa disposizione standard poi potete cambiare come volete ecco vi ringrazio come sempre per l'attenzione spero che questo suggerimento venga utile anche a voi un saluto e alla prossima ciao ciao